Sa prova, sa, sa prova, sa, benissimo, ok, aspettiamo che inizi la live, va bene, ok, eccoci qua, sa, si, sa prova, sa, benissimo, ok, si sente, si sente molto bene, ok, bene cari amici, cominciamo subito, allora, salve a tutti chi non mi conosce, io mi chiamo Alessio Evangelisti, benissimo, allora, vogliamo fare una live questa mattina, domenica 12 gennaio 2020, benissimo, allora, vogliamo fare un video molto interessante, perché ci preannuncia tante cose, oltre che ci fa comprendere alcune verità molto importanti, benissimo, Allora, fammi aggiornare un pochino le paginette, ok, streaming qua, benissimo, allora, siamo, questa, io penso che oggi non ci sarà quasi nessuno a quest'ora, anche perché è una live improvvisata, va bene. Allora, per quanto riguarda invece le live, allora, come ho detto nel video precedente, come ho detto nel video precedente, praticamente mi hanno riattivato il primo, come si chiama, il primo canale di YouTube, ok, quindi lo posso usare anche per le live, però, io preferisco usare il secondo canale per le live, e il primo canale per lo streaming privato, perché così siamo più ristretti, perché non mi interessa la massa, nelle live non mi interessa la massa, mi interessa che ci siano soltanto fratelli e amici, e per amici intendo, gloria a Dio, tutti quelli che anche invocano il nome del Signore, anche quelli che magari non scrivono mai, che io non li conosco, ma che Dio vi benedica, perché poi persone che vengono solamente a farti perdere tempo, quelli non mi interessano. Se poi si fa una live di apologetica o quant'altro, allora lì il discorso cambia, però dipende, anche da volta in volta. Per esempio, ormai questo è un nemico già vinto, Torben Sondergaard, e non mi interessa più parlare con loro, perché negano l'evidenza, quindi ti fanno perdere solo tempo. Pace Aurora, Dio ti benedica, te famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vogliamo fare un video molto importante, perché proprio ieri sera stavo riflettendo, poi, scusate, torno al discorso precedente, per quanto riguarda il primo canale, ho visto che quando faccio la live, non mi appare sulla parte privata mia, in maniera tale da non permettermi di gestire il video in piena libertà. Quindi anche lì c'è un problema. Vedete, questo è un incontro, ma ha creato diversi problemini. Però si risolveranno con l'aiuto del Signore. Benissimo. Allora, vogliamo tornare un attimino a Torben Sondergaard, perché praticamente ieri sera proprio stavo riflettendo sul fatto, ora vi farò vedere dei filmati, come questo movimento sta contribuendo all'adempimento profetico della parola di Dio. Un passo su tutti si trova in Matteo capitolo 25, dove leggiamo la famosissima profezia delle Dieci Vergini. Ora, qualcuno che segue questo Torben Sondergaard mi ha accusato e mi ha detto che io sono un grande bugiardo e che avrei dovuto investire i responsabili, quindi le autorità, di Ultima Riforma Italia. e avrei dovuto chiedere a loro come stanno le cose e qual è la dottrina che Torben Sondergaard, Ultima Riforma, promuove. Allora, io rispondo, caproni che non siete altro, la dottrina che Torben Sondergaard promuove si trova palesata sulla rete e tutti quanti hanno accesso, purtroppo, ok? a questa dottrina e tutti quanti possono rimanere, come dire, soggiogati da queste dottrine antibibliche. Inoltre, adesso vi faremo vedere dei filmati dove loro, per l'ennesima volta, vi mostreremo, dove loro fanno dei battesimi in acqua, pubblicamente, non so se al lago, al mare, non so dove, in mezzo la gente e dove la gente vede persone che vengono battezzate nell'acqua e sono indemoniate. Persone che dovrebbero essere nate di nuovo, già ne abbiamo parlato, ok? E che sono indemoniate e fanno versi e versacci davanti alla gente per colpa di queste cose la via della verità, come dirà la seconda epistola di Pietro, capitolo 2, viene bestemmiata. Quindi, quando voi mi dite che io sono un bugiardo, siete voi i bugiardi, perché io vi mostro le prove e avverto il popolo e suono lo shofar e dico, guardate che lì c'è il nemico, il mio dovere io lo faccio. Quindi dice, Proverbi 10, che chi dice le bugie che è un bugiardo, odia. Allora, vi farò vedere, ecco qui, eccolo qua, questo è il video, allora, questo è il video, va bene? Ora io vi farò vedere il video, così vediamo quanto io sono bugiardo. Metto un pochino il... Ok. Pazienza, perché vi voglio far sentire... No, it has to do with the power of baptism. And no matter who baptizes, the same power, the same Holy Spirit, the same freedom. But what we need to do, when people get baptized, we need to explain what it is before, and as soon as they come out of water, instead of clapping and drinking coffee, we need to pray, and come back, everything to go. And sometimes something is greedy, because there is something. Other times, it's quiet, and you speak. and you speak. Sì, 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 sì. grazie Grazie a tutti. 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 Che contrasto. Mamma mia. Grazie a tutti. Allora. c'è un contrasto. Grazie a tutti. Allora. Allora. che... che... il web... che stanno... e... in primis... del Signore. che... avvi... che... ce l'aveva... escono fuori... e entra lo spirito... tanto... e... e... non lo guarda... e... 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 che... M... che... veramente si sente lo spirito di satana quindi per molti il problema di alessio evangelisti è il candelabro per altri è la cravatta alessio evangelisti che scandalo c'ha la cravatta già che scandalo che fa alessio evangelisti già oppure che fa vedere determinate cose ma questa roba qua nessuno viene scandalizzato vero che ipocriti che siete che ipocriti battesimo in acqua uguale indemoniato è lo spirito dell'anticristo la bibbia condanna questo ora se qui ci fosse l'opera di dio e voi foste coscienti che questa è la verità ovvero foste convinti che questa è la verità non dovreste sentirvi né perseguitati dal sottoscritto né offesi infatti quando io vengo attaccato come apostata perché predico la trinità perché predico il vero battesimo nello spirito santo perché predico il rapimento della chiesa perché predico che la chiesa non passerà per la grande dribolazione e gli altri prendono i miei video mi perseguitano mi insultano io mi rallegro non vado in giro a bloccare video o a denunciare persone quindi se voi sareste convinti nello spirito che siete nel giusto non dovreste farmi chiudere questo video o perseguitarmi giusto punto esclamativo benissimo allora poi queste lingue be 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 me 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 le 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 ci 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 oppure battesimo in acqua uguale battesimo nello spirito santo ma che lì ma che bibbia leggete non è automatico ma che bibbia che bibbia poi nessuno denuncia queste cose quanti sono quelli che denunciano queste cose dobbiamo stare zitti dobbiamo stare in silenzio ma per carità di dio ma non sia mai questo questo caprone di torben sondergaard addirittura ha fatto un film un film adesso diventerà il paladino di hollywood allora basta io sarei il bugiardo io sarei il bugiardo che ho mentito che avrei mentito no che nel video precedente avrei detto il falso giusto ora vi metto il video dove io sono stato incriminato allora scusate se io vado su alessio 912 alessio 912 che è il primo canale eccolo qua questo video qua ok ora ve lo metto qua copia allora io in questo video eccolo qua avrei detto il falso e avrei dovuto chiamare quelli di ultima riforma italia per chiedere ai responsabili qual è la loro dottrina ma perché non non l'abbiamo visto c'ho bisogno di questi di ultima riforma italia che me che me prendono in giro che quello là se metteva occhiali se levava occhiali figlio di ogni iniquità figlio del diavolo figlio di ogni disavventura figlio di ogni tenebra presente sul sulla terra e sul primo cielo e sul secondo cielo che dio ti sgridi che dio vi sgridi per quello che fate voi che promuovete una dottrina che non c'entra niente non c'entra niente con la vera dottrina di cristo e noi la chiesa di gesù cristo che siamo quattro pecore in tutto il mondo perché siamo molto pochi predichiamo la dottrina di cristo voi non professate la dottrina di cristo non la professate non la vivete non la insegnate e siete di scandalo siete di scandalo al mondo e alla vera chiesa di gesù cristo matteo capitolo 25 riflettendo ieri sera ci dà ci porta delle delucidazioni molto importanti in merito vogliamo esaminarle insieme matteo capitolo 25 gloria al padre gloria al figlio gloria allo spirito santo benedetto sia il suo nome dice che il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini le quali vogliamo farlo un pochino più simile a dieci vergini le quali presero le loro lampade no quindi tutte queste dieci vergini avevano la lampada quindi utilizzavano la parola di dio a molti hanno la parola di dio noi sappiamo che la lampada e tante cose abbiamo fatto un video dedicato la lampada e tante cose anche lo spirito nostro viene chiamato la lampada ma nello specifico diciamo la prima cosa che ci annuncia questo termine lampada e la parola di dio ora uscirono fuori per incontrare lo sposo quindi tutti aspettavano lo sposo infatti oggi non solo la vera chiesa di gesù cristo sta aspettando lo sposo ma diversi non tutti diversi movimenti apostati che sono apostati che non vivono la parola di dio pur nominando la parola di dio dicono di aspettare lo sposo sanno che lo sposo deve venire e nonostante vivono l'iniquità stanno dicendo non vediamo l'ora che il signore ritorni addirittura io conosco gente conosco gente che crede in gesù cristo ma che non vive la sua parola e che nella propria bocca ha sempre queste affermazioni ovvero non vedo l'ora che il signore torna si non vedi l'ora che il signore torna ma tu non sei in regola con il signore quindi quando il signore verrà a rapire la sua chiesa tu non sarai rapito quindi che cosa vai dicendo quindi molti dicono signore 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 dirà matteo capitolo 7 dal verso 21 ora quindi 5 di esse erano avvedute e 5 erano pazze perché 5 erano avvedute 5 erano pazze qual è il segno che contraddistingue le avvedute dalle pazze dalle pazze ce lo spiegherà subito dopo infatti le pazze avevano le lampade ma non avevano preso secco l'olio mentre invece le avvedute avevano insieme con le loro lampade preso anche l'olio questa profezia si sta adempiendo in molte persone e in molti movimenti oggi ci vogliamo concentrare nel movimento di torben sondergaard ultima riforma infatti il movimento ultima riforma cappeggiato da torben sondergaard ha la lampada ovvero usa la lampada usa la parola di dio ma non ha lo spirito non ha l'olio infatti promuove un falso spirito false lingue la non c'è lo spirito di dio ma c'è un altro spirito che è lo spirito dell'attersario ecco qui come in molte assemblee che hanno l'apparenza della pietà ma in verità ne stanno rinnegando la potenza guardate come la parola di dio è precisa che negli ultimi tempi previo rapimento della chiesa nell'ultima ora che è l'ora della mezzanotte tutte queste cose si sarebbero concretizzate quindi abbiamo segni ovunque segni in israele segni nelle nazioni segni nella natura segni nel mare segni nel cielo segni nelle acque che si trovano nei continenti segni nelle genti il razzismo l'antisemitismo la malvagità i terremoti i vulcani la apostasia gli eserciti l'animalizzazione degli eserciti come ho mostrato nel video intitolato terza guerra mondiale che quando ho scoperto questo mi si sono addrizzati i capelli siamo pieni di segni sono più di cento ma pochi pochi sono accorti pochi stanno vedendo pochi stanno seguendo pochi stanno parlando pochi stanno denunciando se oggi fai un video satanico o di oppure video di questo mondo di games di questi giochetti qua arrivano a un milione di visualizzazioni anche a video o tre quattrocentomila visualizzazioni a video sì perché il mondo ama i suoi ma se fai un video su queste cose qua sì e no avrai qualche centinaio di visualizzazioni perché la gente non è che è ignorante ovvero ignora perché è ignorante la gente ignora perché è peccatrice perché ama il peccato e non vuol sapere nulla della luce la maggior parte delle persone hanno il proprio predicatore apostata perché se lo meritano si meritano la maggior parte quello che hanno oggi questa piccola chiesa che piccola 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 ma piccola siamo pochissimi pochi 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 dobbiamo far molta fatica per andare avanti crocifiggendo noi stessi perché è una perseveranza giorno dopo giorno combattere contro il nostro io contro la popacarne contro l'apostasia contro il nemico contro le insidie del nemico contro questo mondo contro questi movimenti veniamo attaccati veniamo dei risi quindi questa profezia si è adempiuta alla perfezione e si sta continuando a adempiere alla perfezione quindi io sarei il bugiardo sì io sarei il bugiardo vediamo se mi voglio far due risate se non cercate di farmi togliere questo video vediamo io quando mi prendono i video mi metto a ridere anzi mi fanno una doppia cortesia vediamo se anche voi vi rallegrate vediamo di che spirito siete fatti allora andiamo avanti vogliamo leggere qualche passo molto importante della sacra scrittura che ricordo la sacra scrittura è l'unica unità di fede che noi abbiamo non ce n'è un'altra non ne vogliamo un'altra come già detto vogliamo riprenderlo seconda pietro capitolo 2 dal primo verso dice che vi furono falsi profeti file fra il popolo come altresì vi saranno fra voi dei falsi dottori quindi facciamo attenzione a chi ascoltiamo perché la profezia della parola di dio ci dice che ci sarebbero stati falsi dottori falsi dottori falsi dottori non chiunque predica il vangelo non chiunque fa un battesimo nell'acqua è un vero ministro del signore ecco perché lo dico con amore dovete crescere non dovete andare il primo video che vedete uno che fa un battesimo nell'acqua alleluia gloria a dio gloria a dio gloria a dio de che lo conosci sai se lo sta battezzando nel nome del padre del figlio dello spirito santo sai che dottrina promuove prima conosci la persona e non basta un video per conoscere una persona vedi è di alfi come uscito fuori quello che è uno di loro i quali sottintrodurranno sottintrodurranno significa non significa introdurranno sottintrodurranno cioè lo faranno sotto banco l'avversario è molto abile a mischiare verità e menzogna ecco perché c'è bisogno di validi insegnanti maturi e anziani non ragazzini o neoconvertiti con quattro anni di fede che abbiano esperienza nelle cose di dio e che veramente siano stati chiamati dal signore per insegnare rettamente la parola di dio e smascherare l'avversario attenzione io vi invito a non seguire i neoconvertiti il neoconvertito si limiti dice il signore nella sua parola si limiti a parlare dell'abc della bibbia non andare oltre se no ne porterai la pena così come quello che è anziano e non parla e sta zitto ne porterà la pena anche lui perché vero è che portiamo la pena quando non dovendo parlare parliamo ma altresì vero è il contrario quando dovendo parlare non parliamo e tacciamo perché di uomini di dio veri mille volte più grandi di me e che ne sanno mille volte più di me io ne conosco come mai non si sentono hai di colui che prende il suo ministerio e lo mette dentro al cassetto ricordati quello che gli ha detto paolo nella seconda epistola a timotio timotio che fai taci ti vergogni ti senti perseguitato e che ti è stato fatto da il ministerio perché ti è stato dato il ministerio quindi hai di chi si improvvisa in un ministerio e hai di chi invece avendo ricevuto un ministerio o quello che ti pare che non è che ci sono solo i ministeri ci sono pure i doni e ci sono pure i talenti ciascuno faccia quello che ha secondo quello che gli è stato comandato dal signore e lo trovi scritto nella parola di dio come stai messo e quindi sottintrodurranno cioè lo faranno di soppiatto eresie di perdizione ragazzi fratelli amici la dottrina eretica ti fa perdere l'anima è inutile che tu vai in giro a fare buone azioni e gloria a dio questo avviene per comandamento di dio amenne ma una verità biblica non è nulla un'altra quindi le dottrine false cioè eretiche eresie portano alla perdizione ecco l'importanza di denunciarle ecco l'importanza di chi ha ricevuto questo di portare un insegnamento vero ecco l'importanza di chi non ha ricevuto la chiamata a insegnare può sempre annunciare il cristo l'abc cristo salva cristo viene il signore ti dice oggi nella sua parola che vuole che tu accetti la sua parola la sua verità che tu cammini lui che tu ti santifichi e così via discorrendo no l'abc della bibbia tutti siamo chiamati a annunciare questo poi l'insegnamento è un'altra cosa e rinnegheranno il signore che li ha comprati occhio a questa parola come siamo stati comprati col sangue di cristo cosa dice ultima riforma di torben sondergar che l'acqua lava i peccati tolgono il sangue e mettono l'acqua questa è una bestemmia contro lo spirito santo non c'è perdono traendosi addosso subita perdizione occhio alle dottrine molti seguiteranno le loro lascivie non dice alcuni molti molti la chiesa è poca per le quali la verità sarà bestemmiata per colpa di questo noi veniamo derisi e soprattutto non è tanto noi che ci interessa la parola di dio viene bestemmiata vi rendete conto la gravità della situazione quindi io provo un grandissimo contrasto spirituale davanti a queste cose però dobbiamo lottare gloria a dio contro queste cose c'è infatti come già detto prima primontio 4 dice dottrine di libro lo spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apposterranno dalla fede attendendo a spiriti seduttori ragazzi dottrine diaboliche uomini che proporranno cose false per ipocrisia cautelizzati dalla propria coscienza gli terranno il maritarsi compreranno di astenersi i cibi insomma ci sono tante cose che poi si concretizzano no? poi Matteo famoso Matteo Matteo 24 Marco 13 Matteo 24 per esempio dice qua allora vi metteranno nelle mani altrui cioè noi che predichiamo Cristo siamo perseguitati saremo afflitti saremo uccisi saremo odiati da tutte le genti per il mio nome quanto più sia il mondo e sia la pseudo chiesa quando vedranno queste cose già odiano Cristo in più hanno il pretesto allora molti si scandalizzeranno si tradiranno si odieranno molti si scandalizzeranno molti farsi profetti sorgeranno e ne sedurranno molti ora molti si scandalizzano si scandalizzano anche dal fatto che se loro non si allineano all'apostasia vengono scansati perdono il posto nella pseudo chiesa dove vanno magari hanno un compitino sapete a Roma se dice te li consolico l'aglietto hanno un compitino sono così attaccati al compitino o magari hanno paura di restare da soli ma il cristiano soprattutto i veri ministri di Dio si sono sempre caratterizzati per essere persone non dico sempre ma molto spesso per essere persone molto sole e quando dico molto sole non sto parlando di eremiti o di solitari molto sole perché sono sempre scansati io vi potrei raccontare delle testimonianze terribili sul mio pastore lasciamo stare non voglio più toccare quel tasto ma i ministri soprattutto spesso sono uomini molto soli perché hanno sono visti come persone come se ci avessi qualche qualche cosa addosso uscia via quando io andavo in determinate riunioni i primi tempi non è che conoscevo molto quegli ambienti decine decine di pastori si allontanavano da me si allontanavano di più ordini eccetera eccetera e io stavo sempre solo perché molti sono i chiamati pochi sono gli eletti la maggior parte hanno uno spirito diverso non perseguono Cristo sono pochi 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 salvati molto pochi quelli che hanno veramente lo spirito di Dio dice Marco quindi non abbiate paura della solitudine non sto promuovendo la solitudine ma purtroppo se vieni scansato che devi fa' però certi per non perdere il posticino per non essere scansati per non essere perseguitati vogliono restare in questi ambienti ostili all'Evangelo essere soggiocati dalle dottrine di demoni e perseguire e alle volte purtroppo anche predicare insegnare dottrine di demoni e di perdizione Marco allora Marco 13 dice Marco 13 22 dice che falsi cristi e falsi profeti sorgeranno e che questi faranno segni e miracoli e poi vengono da te e ti dicono mostrami la tua potenza cosa fai tu dove stanno i tuoi segni i tuoi potici hai capito e io ti rispondo capra agnostica massone che non sei altro vuoi sapere dove stanno i miei segni vuoi sapere dove stanno i miei miracoli ecco buttami in secchio d'acqua per terra ti faccio vedere come cammino sull'acqua caprone ecco come gli rispondo capra agnostica io predico l'Evangelo di Gesù Cristo non predico la spazzatura non predico il satanismo non predico il blablabla non predico che te metto la mano qua quando vieni battezzato nell'acqua te mettono la mano qua ma dove si è mai vista una cosa del genere la mano in gola ma che è sta macumba e ne sedurranno se fosse possibile anche agli eletti oggigiorno gli eletti gli eletti nati di nuovo vengono sedotti come quelli i predicatori della strada molti di loro stanno seguendo e sono stati sedotti da Torben Sondergar e dal suo spirito del Kundalini sono stati sedotti come è stato possibile me lo posso immaginare ma non lo voglio commentare quindi la seduzione attenzione ecco perché noi anziani di vecchia guardia purtroppo senza togliere nulla ai nati di nuovo di adesso veramente nati di nuovo ma gli anziani di vecchia guardia che veniamo dalla vecchia guardia che veramente abbiamo conosciuto per esperienza la volontà del Signore la potenza dello Spirito Santo dobbiamo avvertire anche se nessuno accetterà comunque dobbiamo avvertire perché in quel giorno non si dica voi non avete suonato lo shofar e non si dica nessuno vi ha avvertiti queste sono leggi bibliche che si trovano nella parola di Dio uno su tutti Ezechiele 33 che se lo shofar non viene suonato la gente si perde e Dio chiederà conto a chi non ha suonato lo shofar sto parlando dei ministeriati quelli di vecchia guardia soprattutto io ho 24 anni di fede ma qui c'è gente che ha 30 40 anni di fede che è ancora più responsabile di me perché ne sa più di me e perché è più matura di me e perché ha molto da insegnarmi allora ah sì prima Giovanni capitolo 2 vi ricordate prima Giovanni 2 dal 18 un poi eh qua annuncia l'anticristo uomo no franciuli egli è l'ultimo tempo voi avete inteso che l'anticristo verrà quindi l'anticristo uomo deve venire ma fin da ora sono sorti molti anticristi perché ora non c'è l'anticristo uomo però c'è lo spirito dell'anticristo che si trova presente fin dall'arrivo del vero Cristo il quale si è palesato manifestato in primis nella figura di Erode il Grande che cercò di uccidere il vero Cristo allo stesso modo da duemila anni a questa parte molti che sono soggiogati da questo spirito dell'anticristo stanno cercando di uccidere la parola di Dio e la chiesa di Gesù Cristo e molti abbiamo letto vengono sedotti sedotti da questo spirito e cadono in questo tranello satanico attenzione a sottovalutare la potenza del satanasso perché è brutto a dirsi ma è vero il satanasso è potente ma non è onnipotente perché l'onnipotente è solo Dio quindi satana è vero che è potente ma Dio è onnipotente ora però essendo il satanasso potente chi non ha lo spirito di Dio lo spirito santo viene soggiocato da questo satanasso perché perché è potente ma se noi siamo un Cristo come dirà Romani se Dio è con noi chi sarà contro di noi Romani 8 mi pare 31 se non balberrato se Dio è con noi chi sarà contro di noi quindi facciamo in modo che Dio sia con noi attraverso la fede la fede nella parola di Dio non la fede nelle eresie ora una parte molto importante della scrittura recita in Tito capitolo 2 che esorta esorta semigliantemente i giovani a essere temperati ora recando te stesso in ogni cosa come esempio di buone opere mostrando nella dottrina mostrando nella dottrina integrità incorrotta ragazzi se la dottrina viene insegnata in maniera integrale incorrotta recavita altrimenti viene adulterata e l'adulterio davanti a Dio non trova perdono tanto più l'adulterio spirituale va bene questo è stato il video ho finito potrei aggiungere seconda seconda pietro 2 quando dice verso 12 costoro come animali senza ragione perché chi non è di Cristo è come un animale infatti fanno le cose che fanno gli animali si accoppiano tra uomini uomini con uomini donne con donne fanno le peggio cose le peggio porcherie le peggio zozzerie che vi potrei qui descrivere che ci verrebbe il vomito a tutti lasciamo stare lasciamo stare lasciamo stare ci siamo capiti apri la mente sono come animali cioè senza ragione andando dietro all'impeto della natura nati per essere presi perire bestemmiando delle cose che ignorano periranno tutti del tutto nella loro corruzione ricevendo il pagamento della iniquità amico mio qualcuno disse e le voglio prendere in prestito queste parole non sono mie qualcuno disse tu sei libero di seminare quello che te pare ma non sei libero di raccogliere quello che te pare io ci credo io ci credo quanti fanno il male Dio glielo permette anche se ti dice di non farlo però non lo puoi fare però se lo vuoi fare Dio te lo permette però poi raccoglierai quello che hai seminato vedete quello che sta succedendo nel mondo lo vedete quello che sta succedendo nel mondo lo vedete quello che sta succedendo nel mondo dice lei tu stai sempre a ripetere le stesse cose si ce l'ho come difetto in più è didache è didattico va bene hai visto il mio difetto copera il bene perché tutto copera il bene per coloro che temono Dio ripeti sempre le stesse cose vai al succo e so fatto così vedete quello che sta succedendo nel mondo ragazzi fratelli il mondo è in fiamme non solo materialmente ma spiritualmente la chiesa bolle il mondo bolle le armi nucleari bollono il peccato bolle l'apostasia bolle l'iniquità bolle la corruzione bolle la falsità bolle la menzogna bolle l'ipocrisia bolle oggi non te puoi fidare manco più dell'ombra tua non te puoi più fidare di nessuno ma di Cristo e della sua parola sì quindi rimaniamo aggrappati al Signore e preghiamo vogliamo siamo sobri non facciamoci le dormitelle che ti mettiamo per terra che ti metti a dormire che qua che su che giù che no no vogliamo vogliamo saluto tutti pace Aurora pace Nemo pace Fiorella pace Cuore Fervente pace Steven pace Cosimo pace Giacoma pace Davide pace Giovanni Michalizzi Davide Astai dice cita un passo lo voglio leggere perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna certo perché hanno voluto la menzogna e quindi Dio tu gliela dà come ha fatto a Faraoni affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità perché ribelli perché hanno indurito il proprio cuore si sono compiaciuti nell'iniquità e siano giudicati amén seconda Tessaloricesi 2.11 amén poi pace Mimma Francesca poi Patrizia Dorio pace poi Cristiano Michalizzi mi fa una domanda che già ho risposto nel video senza averla letta prima Giovanni mi chiede fratello Alessio una domanda un cristiano normale come me o altri siamo tutti normali però lui dice che non ha il ministerio ok può avvisare altri credenti per aiutarli a non seguire a fare queste dottrine certo assolutamente sì e allora qui c'è un grande problema non lo voglio fare lungo allora la teoria vuole che un cristiano giovane faccia parte di una chiesa locale ok forte che la chiesa universale in questa chiesa ci sono anziani pastori ministeriati eccetera 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 quindi quando il credente giovane ha in mente di fare determinate cose annunciare Cristo e tutto quanto ci sono gli anziani che lo aiutano e quando sbaglia gli dicono guarda qui attenzione come anche a casa tua come nella vita normale quindi in teoria il problema non si porrebbe perché un cristiano giovane sarebbe seguito da un anziano che l'aiuta no quindi sì si può tranquillamente fare perché tutti nel nostro piccolo annunciamo Cristo in più si dovrebbe concretizzare questa cosa qua ora quindi se tu sei uno giovane dovresti essere seguito consigliato da un anziano ora non venite da me per cortesia perché io non ho tempo manco di vive scusate la battuta però visto che tu mi hai fatto un nome mi hai detto che ti senti col fratello Raffaele e il fratello Raffaele ha vent'anni di fede più di me ne sa più di me fate seguire anche da lui se pensi sia se sei d'accordo insomma spero di averti risposto però non voglio troppo mettermi in questo però sì certo perché tutti annunciamo Cristo e tutti avvertiamo allora poi Rosa Aquila Pace ho messo perso un commento ok Pace Mari Pace Teresa ok finito va bene finito ancora le 11 e 29 allora sono 56 minuti va bene ho finito ok allora io vi saluto va bene va bene il Signore vi benedica grandemente grazie per essere stati qui in questa mattina anzi 18 persone pensavo che saremo stati 2-3 allora pace Jason Deat sono Enza pace Enza a me ok Dio vi benedica va bene passate se il Signore vorrà se il Signore deciderà tutta la giornata una buona domenica in Cristo Gesù e il Signore vi benedica con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo videoprogramma Amen Pace e bene grazie a tutti vi benedica a tutti vi benedica Grazie.